Lei deve volare alto. No, non lo posso mica costringere. No, ma tu gli dici che si tratta solo di ragionare. E che non lo deve dire a Emma. Ma sono mica cretino. Posso sopportare qualunque cosa, tranne che pensi che sono cretino. E che mi lasci. Io? Mi lascerai tu? Eh? Non sei fatto. A te che faccio, eh? Mi fanno buttare nel po'? No, ti ci butto io. Ma io voglio fare un migliaio di bambini con te. Voglio fare un sacco di nipotini. Voglio fare. Veramente? Eh sì. Allora dobbiamo cominciare subito. Ciao. 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 Grazie.